Il treno Eurissini 81 di Tremont, provvedente da Monaco di Baviera e diretto a Bologna Centrale delle ore 12 e 19, è in attivo in ritardo all'imario 2, per, attenzione, allontanarsi dalla linea gialla, che va a tenere una porta nuova. La prima classe è il coda al treno. Il treno Alta Velocità Freccia Argento 85-19 di Tremont, provvedente da Polzano, è diretto a Simali delle ore 13 e 57, è in attivo all'imario 2, attenzione, allontanarsi dalla linea gialla, che va a tenere una porta nuova. La prima classe è in coda al treno. Il treno Alta Velocità Freccia Rossa 85-06 di Tremont, provvedente da Napoli Centrale e diretto a Polzano delle ore 13 e 03, è in attivo all'imario 3, attenzione, allontanarsi dalla linea gialla, che va a tenere una porta nuova. Il treno Alta Velocità Freccia Argento 85-19 di Tremont, provvedente da Polzano, è in attivo all'imario 3, attenzione, allontanarsi dalla linea gialla, che va a tenere una porta nuova. Anche le ore 12 e 47, è in attivo all'imario 2, attenzione, allontanarsi dalla linea gialla, per lei in tutte le stazioni. Annuncio ritardo Il treno Alta Velocità Freccia Argento 81-19 di Tremont, provvedente da Monaco di Papiera, è in attivo all'imario 3, attenzione, allontanarsi dalla linea gialla, che va a tenere una porta nuova. Il treno Alta Velocità Freccia Argento 85-19 di Tremont, con un ritardo previsto di 35 minuti. Annuncio ritardo Il treno Alta Velocità Freccia Argento 83-19 di Tremont, delle ore 14 e 17, proveniente da Monaco di Papiera, è diretto a Rimini, arriverà con un ritardo previsto di 40 minuti, per cause dipendenti da Ferrovia Estere. Annuncio ritardo Annuncio ritardo Il treno regionale 16-6-1-0 di Tremont, delle ore 13 e 06, proveniente da Peruna Porta Nuova, è diretto a Bolzano, arriverà con un ritardo previsto di 10 minuti. Il treno regionale veloce 37-58 di Tremont, proveniente da Peruna Porta Nuova, è diretto a Tremont ed ore 12 e 39, è in attivo all'imario 3, attenzione, allontanarsi dalla linea gialla, firma a Tremont, mezzo corona, ora, Bolzano, Ponte Cardena, chiusa, Bressanone, Bressanone, Fondenza, Campo di Tremont, di Piteno, con le Isargo. Il treno regionale veloce 38-41 di Trinitania, proveniente da Bolzano, è diretto a Bologna Centrale, delle ore 13 e 25, è in arrivo all'imario 2. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla, firma a Ala, Domediara, Peruna Porta Nuova, Isola della Scala, Nogara, Ostiglia, Poccio Rusco, Mirandola, San Felice sul Panaro, Creda il Core, San Giovanni in Tarsicento, Osteria Nuova. Attenzione, tremo in transito al binario 2, allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione, tremo in transito al binario 3, allontanarsi dalla linea gialla.